prima delle tavole rotonde vi voglio solamente dire una cosa avete probabilmente seguito la parte di presentazione delle start up sapete che questa è la gallery walk come la chiama l'organizzazione reale quindi in presenza ma poi c'è tutta una gallery walk digitale che sui sul canale youtube di jacobarcian partners e poi anche sul sito del 4 e quindi se andate sul sito del 4 e trovate tutte le interviste che sono state fatte ad innovatori ricercatori aziende in linea con quelle che erano le le tematiche i temi di queste quattro tavole rotonde quindi un contenuto ricco il sito ricco di contenuti davvero interessanti e poi abbiamo preparato non so se la regia ci può fornire la slide con il qr code una piccola survey in realtà mi sono dimenticata di dirvelo questa mattina ma se inquadrate lo vedete nei vostri badge il qr code potete partecipare a questa survey di quali sono gli argomenti che più trovate interessanti che più trovate stimolanti quindi per noi anche soprattutto per l'organizzazione anche un modo per prepararsi al 4 e del prossimo anno che enrica ha annunciato in apertura quindi il suo stimolo di jacobarcian partners nell'affrontare i temi di cambiamento della contemporaneità io devo dire che è raccolto costantemente si si elabora in continuazione si evolve quindi insomma questo è anche un modo per capire che cosa via via stimolato e via ispirato di più e ovviamente i social linkedin uno per tutti su linkedin trovate tutti i contenuti di questa di questa giornata e anche in generale del 4 e e abbiamo previsto infatti la registrazione delle tavole rotonde per cui tra qualche giorno poi le tavole rotonde saranno pubblicate non so se con un unico video oppure app a tavola rotonda ognuna per per tavola rotonda saranno pubblicati dei video sul sul sito del 4 e quindi insomma questo è un modo per continuare a seguire i contenuti di cui parliamo in questa giornata allora ritorniamo al nostro programma e quindi alla tavola rotonda che è appunto abbiamo fatto un piccolo cambio di programma per questioni di esigenze abbiamo un pochino accumulato del ritardo da questa mattina però il cambio di programma non è assolutamente problematico ringraziamo infatti anche eric ezechieli che doveva intervenire che interverrà subito dopo almeno avrà una ricchezza maggiore di cui poter in qualche modo anche darci la sua la sua visione prima ascolterà quello che dicono le aziende così il suo speech che voleva essere un'ispirazione per noi magari potrà essere il nostro panel un'ispirazione per lui per aggiungere delle informazioni le sfide in azienda ambiente persone governance è la terza tavola rotonda abbiamo parlato di energia abbiamo parlato di transizione energetica abbiamo parlato della transizione del del settore della mobilità che chiaramente è la conseguenza diretta dei nuovi vettori energetici delle nuove tecnologie soluzioni e delle nuove fonti di energia e poi arriviamo come un po riprendendo le parole dell'assessore colla che è intervenuto questa mattina in apertura a parlare di persone di territori di persone di un mondo che sta anche in qualche modo richiamando l'attenzione sulla formazione sul reskilling sull'upskilling delle risorse se parliamo di transizione quindi di nuovi obiettivi anche per le aziende e di aziende che in qualche modo si rinnovano partecipano a questo cambiamento cambiando un po pelle e dandosi in qualche modo una governance diversa ma sempre con una grande attenzione alle persone se parliamo di sostenibilità e quindi io ho il piacere di avere come ospiti di questa tavola rotonda Enrica Acuto Iacobacci presidente CEO di Iacobacci and Partners Enrica farà parte di questa tavola rotonda e insieme a me approfondirà questi temi quindi mettiamoci sedute vicine perché così sono poi Annalisa Citterio scusami se ti passo davanti Sostenability Director di VECO benvenuta e buonasera Patrizia Giangualano Advisory in Governance and Sustainability benvenuta e buonasera Daniele Lago CEO di Lago Design benvenuto e buonasera ed Elena Stoppiani ESG Senior Consultant di Lombardini 22 benvenuta e buonasera allora disponiamoci in modo equo io levo il mio telefono che è sempre prezioso per parlare con l'organizzazione eccoci qua e ci possiamo anche sedere unico uomo Daniele Lago allora abbiamo visto un video che abbiamo preparato ovviamente per tutto il 4e però avevamo in serbo in cantiere un altro video che tu hai voluto proprio perché hai fortemente voluto questa tavola rotonda hai detto chiaramente all'organizzazione durante le riunioni del comitato sia scientifico che organizzativo che produce poi il 4e no dobbiamo assolutamente fare questa tavola e poi mi ha detto io voglio partire con questo video quindi io adesso prego la regia di mandarcelo non so se noi lo vedremo da questo monitor noi cinque noi sei anzi però voi lo vedete da quello grande trago ok 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 non ok 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 offensi come I wanted it to be let's cut to the chase in 2020 you promised to bring Apple's entire carbon footprint to zero by 2030 Henry David Thoreau over here said we have a profound opportunity to build a more sustainable future for the planet we share I think our 10 o'clock said the same thing they all did alright this is my third corporate responsibility gig today so who wants to disappoint me first well we've got some updates we're excited to share with you materials status is there a materials person here yes we are in the process of eliminating all plastic from our packaging by the end let me guess 50 years from now when someone else is left holding a bag by the end of next year actually when we're also currently using 100% recycled aluminum in the enclosures of all our macbooks Apple TVs, Apple Watch what about iPod Shuffle? the, well it's a joke don't you people make Ted Lasso? that's a different group we're also phasing out leather in our iPhone cases what about Brando over there? they phasing you out too? oh what's next? electricity electricity status we're operating on 100% clean electricity what runs on 100% clean electricity? every Apple office, store, and data center runs on clean electricity thanks to you and your powerful wind and sun and Apple offices are already carbon neutral yeah this building is carbon neutral? oh yeah we do it with a mix of clean energy and eliminating greenhouse emissions it's kind of like if you were to uh you're seriously explaining carbon neutrality to mother nature? right, no, I'm sorry you want to tell me how photosynthesis works too? don't um, also, over 300 suppliers have committed to using 100% clean, renewable electricity what's next? transportation I'm proud to report that we're shipping more products by ocean rather than air which reduces transportation emissions by 95% 95%? not too bad I'm also happy to report that we're investing in projects around the world that protect the earth's soil, plants, and trees everyone says they're planting trees we've planted forests oh, hello where? Paraguay, Brazil what, are you trying to save the tropical savannah? yes and we've also restored mangroves in Colombia what else? grasslands in Kenya why? our aim is to permanently remove carbon from the atmosphere what about your water usage? we've reduced it by how much? 63 billion gallons 63 million? billion as you can see we've innovated and retooled almost every part of our process to reduce our impact on the planet but there's still a lot more work to do and there's something else we wanted to share with you and there's something else we wanted to share with you you're not trying to bribe mother nature with apple swag it's apple's very first carbon neutral product hmm i want to see you do more of this you will you will when? by 2030 all apple devices will have a net zero climate impact all of them? all of them they better they will okay good see you next year don't disappoint your mother don't disappoint your mother all right all right all right innanzitutto i'm contenta di essere in un panel per la prima volta rispetto a quelli precedenti a maggioranza femminile è già una bella cosa che vuol dire che noi come è sempre successo ci occupiamo delle cose di casa no? nel senso che c'è chi trasforma i trasporti c'è chi trasforma l'energia noi proviamo a trasformare l'azienda e non è un compito da poco la mia domanda vera è se la apple trema all'arrivo di madre natura e vorrei porre questa domanda a Patrizia che è un'amica che ho scoperto durante il periodo del covid in maniera virtuale perché facciamo una specie di tè virtuale al sabato pomeriggio cercando di sollevare un po' i temi e gli argomenti che poi invece siamo conosciuti in persona finito il covid e che è una grande esperta di questi temi cosa fanno le altre aziende se la apple trema bene allora intanto grazie grazie veramente Enrica per l'invito e sono proprio contenta di essere in questa giornata dove in effetti come avete detto siamo riusciti veramente ad affrontare i temi da tutti i punti di vista perché stamattina parlare di energia puoi parlare di mobilità e adesso parlare di organizzazione aziendale credo siano degli aspetti diciamo così molto importanti è vero la apple trema trema e lì è arrivata madre natura però bisognerebbe anche un po' tremare e io e Annalisa che spesso lavoriamo insieme anche di fronte a un consiglio di amministrazione che dovrebbe fare queste richieste e si dovrebbe fare ovviamente parte attiva in questo processo di cambiamento e anzi forse le richieste andrebbero fatte non una volta all'anno ma bisognerebbe fare un monitoraggio un monitoraggio continuo perché è proprio questo il tema in questo momento io credo che il 2015 sia stato un anno diciamo così fondamentale perché per la prima volta tutti quelli che erano gli obiettivi che erano di carattere diciamo così generale che riguardavano solamente il clima e abbiamo visto il video precedente si trasformano sostanzialmente invece in un'agenda l'agenda 20 in 30 con tanti obiettivi e con dei target da raggiungere questo è un passo straordinario associato a quello che è l'accordo di Parigi e associato anche all'intervento sostanzialmente del Papa con la sua laudato sì che comincia a parlare non solamente di ambiente ma anche di aspetti sociali quello è il vero anno del cambiamento tutti si rendono veramente conto che bisogna trasformare quelle che erano delle idee dei passaggi quella che era diciamo così una cultura su questi temi di carattere generale deve diventare azione concreta all'interno delle aziende non solo si devono impegnare gli stati ma si impegnano anche le aziende pesantemente non è un caso che a seguito in sostanza di quegli anni cominciano a ridefinirsi anche tutta una serie di normative nel 2014 era iniziato tutto un lavoro per una direttiva che poi si trasformerà in un decreto legislativo in Italia il 254 che pone alle aziende di maggiori dimensioni l'obbligo di fare una rendicontazione non finanziaria e non è un caso che oggi che questa normativa sta per essere rivista con la CSRD non si parla più di informazioni non finanziarie che tante volte abbiamo criticato perché abbiamo detto non sono informazioni non finanziarie sono dati che entrano a tutti gli effetti all'interno del bilancio e adesso questa direttiva sostanzialmente ci dice di integrare queste informazioni di carattere non finanziario nel bilancio con un report di sostenibilità che racconta in sostanza l'azienda l'azienda viene raccontata con dei numeri che sono sostanzialmente integrati ma prima di arrivare appunto ai numeri che fanno parte in sostanza delle cose che in questo video sono state rappresentate è vero tema e i pensieri insomma che devono avere che devono avere le aziende ma noi cosa stiamo facendo no per muoverci verso diciamo così la sostenibilità qual è la ragione di esistere nel lungo periodo della nostra azienda abbiamo cominciato a pensare che non abbiamo più dei budget degli obiettivi di breve periodo ma che dobbiamo credere in sostanza nel lungo periodo beh se non ci siamo arrivati da soli perché ce lo chiedono i clienti perché c'è la normativa ci sono gli investitori che ce lo chiedono e molto spesso ce lo chiedono pesantemente nel senso che devono garantire il risparmio in sostanza dei loro di chi degli investitori e quindi di chi ovviamente mette a disposizione dei quattrini per avere poi dei rendimenti e quindi bisogna investire su un'azienda che abbia una visione di lungo periodo allora quando penso alle aziende e ai temi che li riguardano il primo punto è proprio questo quale sarà la mia ragione di esistere nel lungo periodo e qual è la strategia che vado ad adottare in un processo di cambiamento che come abbiamo visto stamattina porta a dei cambi assolutamente radicali perché oggi non si è parlato solamente di ottimizzare ma a mio giudizio soprattutto alcuni interventi hanno dimostrato come bisogna cambiare il paradigma non si parla più di automotive ma si parla in sostanza di mobilità questo è stato un esempio diciamo così molto interessante e allora ragione di esistere nel lungo periodo piano strategico ma per arrivare a parlare di un nuovo piano strategico siamo stati capaci di ascoltare i nostri stakeholder e quindi quello che in sostanza diciamo ci viene richiesto ci viene richiesto dal mercato siamo in grado di cogliere queste esigenze il codice per la corporate governance cambia proprio gli affetti delle aziende cambia paradigma dice che l'obiettivo in sostanza delle aziende non è più la massimizzazione del profitto per gli azionisti che altrettanto è molto importante ma gli azionisti sono uno degli stakeholder il tema è quello del raggiungimento del successo sostenibile un successo sostenibile che si porta a casa con un ascolto continuativo degli stakeholder ai quali si rendi conta quello che stiamo facendo e allora per rendi contare queste informazioni che sono quelle che qui abbiamo visto l'azienda deve cominciare diciamo così a ragionare su questi punti cominciando a collegare quelli che possono essere dei KPI a dei che sono appunto gli obiettivi anche quelli che sono i rischi nel non raggiungere questi obiettivi e anche guardare questi KPI in una logica invece di opportunità e non è un caso infatti che la direttiva parla proprio di rischi opportunità che devono essere esaminate in sostanza nel lungo periodo allora solo dopo che un'azienda è stata capace di fare una pianificazione risk based che ha cominciato a mettere insieme questi aspetti che ha anche diciamo così una governance che ha indirizzato tutti questi cambiamenti non solo nel piano strategico ma anche nelle politiche di rimunerazione ma anche nel sistema dei controlli interni ecco che la nostra diventa una rendicontazione trasparente nei confronti dei nostri stakeholder e quindi concludo semplicemente dicendo che non è non possiamo parlare solamente di quello che faremo senza poi avere dati concreti come qui sono stati esaminati perché il rischio di greenwashing è pazzesco sappiamo bene adesso non è il caso di nominarli tutte ma abbiamo avuto l'anno scorso un qualcosa come 50 casi di aziende che avevano dichiarato cose che poi non erano che poi non erano vere quindi ci sono tutta una serie anche di sanzioni di queste cose che al di là del fatto delle sanzioni portano un tema reputazionale molto importante e quindi insomma prima di fare advocacy mettiamo a posto le cose a casa allora grazie io quello che vorrei chiedere invece a te Enrica è proprio tu hai voluto iniziare questo questo approfondimento con questo video perché chiaramente trovavi questo video di ispirazione e allora ti chiedo perché è così importante anche per Iacobaccia in partner discutere di questi temi e soprattutto se parliamo di un piano strategico su questi temi qual è stato qual è in corso quello che tu stai portando avanti guidando la Iacobaccia in partner allora nel 2004 sono entrata nel consiglio di amministrazione a sostituire un membro della famiglia che era deceduto e sono trovata a capo di un'azienda professionale senza essere una professionista e ho sentito molto forte un passaggio di testimone che era volto come un passaggio proprio portare una specie di come si dice proprio il testimone per portarla alle generazioni future cosa che non era facilissima e quindi su cosa potevo giocare non potevo giocare su una leadership professionale perché non ce l'avevo per fortuna gli Iacobacci ce l'hanno e ce l'hanno avuta quindi gli hanno dato un bel heritage ma io non ce l'avevo personalmente e quindi se dovevo portare a fare un salto a questa azienda che aveva già 130 anni quindi doveva arrivare ai 150 e possibilmente dopo e anche le generazioni future che non sono solo i miei figli non sono gli azionisti ma anche tutti gli altri tutti i giovani talenti che lavorano con noi e che trovano a pilla venire a lavorare da noi perché uno dei temi che mi hanno trattato oggi è quello di avere le risorse per pensare al futuro serviva a cambiare qualche cosa e allora dove potevo partire su quello che erano i miei punti che quindi erano per esempio un'attenzione alle persone perché dovevamo creare degli ambienti di lavoro che fossero attrattivi poi i miei figli devo dire su questo con una sensibilità che hanno anche acquisito studiando all'estero erano molto attenti all'ambiente cioè tutte le volte che rientravo in Italia mi guardavano come una troglodita quando erano a casa e fece ancora la plastic e vabbè allora diventiamo plastic free e poi l'altro aspetto importante era la governance noi abbiamo un 80% di donne la diversity tanti temi che secondo me erano importanti io mi sono accorta un giorno qualche anno fa un convegno che senza saperlo in maniera estremamente naifa avevo fatto mi ero occupata di ESG ma l'avevo fatto in maniera naifa istintiva non ero motivata adesso lo dobbiamo fare invece in maniera strutturata perché anche noi siamo obbligati nel 2025 a fare la ricontazione abbiamo iniziato a farla abbiamo iniziato a parlare di doppia materialità abbiamo iniziato a parlare di tematiche perché quello che abbiamo fatto se non è misurato non serve a nulla quindi il nostro obiettivo oggi è capire abbiamo fatto delle cose dove siamo arrivati cosa dobbiamo ancora fare e cosa sarà importante fare per il futuro e come misurare ciò che abbiamo fatto perché effettivamente questo è estremamente importante quindi noi abbiamo fatto delle cose ci teniamo moltissimo e questo è stato un po' il percorso di questi anni che io ho portato avanti quindi questo discorso di cambiare le aziende perché sono un momento che le regole si cambiano ed è facile c'è sempre qualcuno dall'alto che le cambia ma cambiare la cultura sottostante richiede molto più tempo è molto più difficile e richiede molto più impegno perché è un lavoro che fai sempre con una goccia che cade ogni giorno non è un lavoro che puoi imporre e poi credo che non sia neanche una cosa che puoi imporre up down ma deve partire dal basso deve veramente cambiare deve essere accolta e la cultura di impresa per molti anni è stata una cultura diversa è una cultura che abbiamo acquisito quando c'è stato gli inizi dell'albori dell'industrializzazione diciamo da un sistema quasi bellico quasi militare gerarchico oggi queste cose non funzionano più non deve essere più competitiva deve essere molto più collaborativa che sono tutti nuovi concetti culturali prima ancora che legislativi e metodologici prima ancora dei processi dobbiamo cambiare la cultura quindi questo aspetto qua è importante bellissimo questo video perché non sono degli attori a parte l'attrice madre terra sono loro che prendono un impegno quindi questo è importante cioè che siamo noi boomers e non è un complimento perché quando devono parlare male di noi i figli ci dicono siete dei boomers e quindi siamo noi che siamo arrivati su questa terra negli anni 80 siamo usciti dall'università pensando di poter consumare all'infinito e ci stanno spiegando che non lo possiamo fare e se vogliamo lasciare qualcosa di positivo per gli altri dobbiamo impegnarci in prima persona ma anche farci aiutare da loro perché loro hanno molti più strumenti di noi e sono molto più adatti al tempo quindi noi facciamo le leggi benvengano siamo felici di essere in Europa leggi difficili perché queste obbligatorietà saranno anche un peso per tutte le aziende adesso qualcuno l'abbiamo già vista stamattina ne vedremo delle altre ma indispensabili grazie per questa spiegazione non solamente del tuo impegno ma in generale anche un po' proseguendo quello che aveva detto la dottoressa Giangualano alla quale io vorrei chiedere una cosa prima di sentire le aziende perché poi abbiamo tre realtà molto diverse tra di loro anche per grandezze per entità ma che comunque ci racconteranno nei loro settori un po' come hanno declinato questo tema questa mattina Enrica in apertura parlava dell'Europa e diceva noi vorremmo essere come Europa una sorta di buon esempio di civiltà e quindi ci stiamo occupando di determinati temi abbiamo notato che le normative europee sicuramente stringono moltissimo la possibilità di una profittabilità delle aziende come erano abituati ad averla quindi le cose devono cambiare però abbiamo visto come nel settore mobilità insomma la normativa abbia stretto moltissimo le aziende allora vorrei capire qual è la conseguenza invece se parliamo di ESG se parliamo di questo tipo di cambio culturale all'interno dell'azienda perché poi comunque non è solamente una transizione ecologica sulla sostenibilità sul green sull'energia ma è culturale anche come tutti i cambiamenti epocali abbiamo parlato di transizione culturale anche quando ci dovevamo aprire al digitale alla tecnologia e quindi qual è però la conseguenza una conseguenza che genera nuove opportunità una conseguenza che genera delle sfide difficili come quelle che abbiamo visto in altri settori quando si parla di ESG e corporate social responsibility insomma in azienda certamente poi le aziende che verranno dopo lo potranno dire assolutamente nel concreto è una sfida difficile perché le aziende non sono abituate a ragionare in questi nuovi in questi nuovi termini lo diceva stamattina qualcuno che cambia il modo di lavorare delle aziende non si fa più da soli ma bisogna fare tutto in partnership si parla di collaborazioni con le università con le altre aziende con la propria filiera perché io ho nominato la CSRD ma la corporate due diligence che cosa impone alle aziende di andare a rivedere all'interno della filiera come questi come i fornitori rispondono al proprio al cambiamento climatico e quindi non solo lo scop 1 scop 2 ma anche scop 3 non solo come come rispettano i diritti umani e siccome parliamo di aziende internazionali le nostre sono aziende che hanno evidentemente un diciamo così un'apertura internazionale molto forte non è così semplice questo porta anche una rivisitazione dei prodotti una rivisitazione dei processi no? e anche questo è un percorso è un percorso è un percorso difficile però io credo che ormai il dado è tratto magari potremmo anche alleggerire qualche diciamo così qualche obiettivo e magari ritardarlo un pochino e purtroppo mi sa che siamo su questa strada perché ieri sono stati presentati dall'ASVIS e dal professor Giovannini i risultati no? dell'agenda 2030 e così come anche a livello ONU il tema è stato trattato e sembra che siamo in un grande ritardo quindi magari è probabile che ci sia qualche rivisitazione ma il punto è che le aziende soprattutto quelle grandi hanno iniziato questo percorso lo dico sempre guardando hanno iniziato questo percorso e questo che cosa significa? che inevitabilmente è responsabilità anche di queste aziende farsi carico della filiera io ho la fortuna di stare in aziende abbastanza grandi come amministratore indipendente e noi ci siamo presi carico proprio delle nostre filiere facendo dei corsi sostanzialmente in ambito elite o in altri punti proprio per creare le condizioni perché esista questa trasformazione e credo che questa sia una responsabilità diciamo così molto importante quindi se oggi sono poche quelle che fanno la dichiarazione non finanziaria io credo che con questa nuova normativa dobbiamo portarci indietro un panorama di aziende diciamo così molto più ampia vorrei fare un esempio perché le cose stanno avvenendo per esempio poco tempo fa a Roma ho assistito a una conferenza dove c'è la responsabile di caring e della sostenibilità allora dal nostro punto di vista dell'intellectual property che rappresentiamo diverse aziende del mondo del fashion fino a poco tempo fa bisticciavano sulla forma di un morsetto su qualche cosa ed erano in perenne elite tra di loro caring ha iniziato una piattaforma sulla sostenibilità che sta condividendo non solo con la propria filiera interessante con i propri competitor questo è un dato pazzesco se ci pensate c'è caring ha messo su una piattaforma sulla perché anche l'industria del fashion è un'industria altamente inquinante è responsabile per una buona dose dell'inquinamento globale il fatto che un gruppo come caring faccia una piattaforma e la metta a disposizione del competitor è una cosa che io non avevo mai visto e quindi qualcosa si muove nella realtà non è c'è ancora tanto da fare siamo in ritardo ma qualche buona practice c'è io vorrei vorrei sapere da Lombardini 22 e quindi da Elena Stoppioni proprio per iniziare con le testimonianze di realtà che in qualche modo si distinguono per chiaro se le abbiamo invitate perché le consideriamo delle best practice voi fate servizi di valore aggiunto per il settore real estate e avete diverse unit che si occupano chiaramente poi di varie cose anche di ESG ecco se parliamo di culture quindi parliamo di un cambiamento che viene dal basso e parliamo della parola chiave che secondo me in questo frangente è persone che cosa state facendo per le vostre persone grazie grazie della domanda ben trovati a tutti è molto bello riuscire a condividere anche con aziende non sempre del real estate e basta queste tematiche anche perché io da presidente di associazione ambientalista nella mia seconda vita tendo tantissimo a incontrare le persone su questi temi Lombardini 22 è una realtà molto strana perché chiamarla studio di architettura e ingegneria è sbagliato intanto non ha il nome dell'artistar sull'insegna ma ha il nome della via al numero civico Lombardini noi siamo in via lì a Lombardini 22 siamo 440 tra l'altro con una crescita esponenziale negli ultimi anni soprattutto post covid e con un'età media che non supera i 35 anni questo farebbe pensare che questo genera un substrato ottimale perché tanto i giovani sono tutti sostenibili e non è proprio così c'è un bellissimo detto che dice quando vuoi che le cose non accadano facci una commissione quindi niente di più sbagliato di fare una business unit sull'ISG e infatti questo tema noi quando mi hanno proposto di prendere la direzione della business unit io lo sentivo forte e allora con i miei collaboratori più stretti ci siamo detti ma noi vorremmo definirsi comunità sostenibile ma siamo sicuri che i ragazzi nostri vogliono diventare comunità sostenibile comunità sostenibile è uno dei goal dell'agenda 2030 è il goal 11 che al di là della territorialità identifica le comunità come un aggregato di persone che si mettono insieme e fanno una roadmap per migliorarsi allora ci siamo inventati un giochino l'anno scorso nell'anno più caldo nel giorno più caldo dell'anno era luglio d'accordo solo con il direttore generale con il manutentore quindi neanche il board sapeva questa cosa ma ci aveva dato carta bianca abbiamo spento l'alematizzazione inerzia termica poca anche l'edificio lì per cui dopo un po' si suddicchia poi arrivano le prime lamentele dopo un'ora c'era la sommossa popolare tant'è che noi pensavamo di farlo durare 3-4 ore ma dopo un'ora abbiamo dovuto far ripartire tutto arriva una mail a tappeto a tutti dicendo avete caldo siamo stati noi da qui te ne puoi andare al pianeta no quando progetti ricordati che le persone a cui tieni stanno sentendo e percependo esattamente quello per cui tu ti stai lamentando adesso per cui il tuo contributo non è ininfluente da lì abbiamo lanciato un podcast interno un diario di bordo tutta una serie di iniziative però a quel punto li avevamo agganciati il problema che se ora il Lombardini salta la luce mi vengano a cercare ah siete stati no non siamo stati noi questo per dirvi che se si vuole iniziare una dieta si parte sempre col pesarsi ed è vero i KPI sono fondamentali per non parlare a vanvera di sostenibilità ma fare delle roadmap molto precise però poi per non scoraggiarsi del fatto ci siamo pesati sulla bilancia serve un luogo di persone con cui condividere anche le reazioni emotive di quello che si è misurato no tant'è che poi da lì noi tutte le volte facciamo survey e cerchiamo di coinvolgere tutti dentro questo dentro questo percorso abbiamo misurato la carbon footprint a un certo punto ci siamo detto ok decarbonizzazione passiamo all'energia verde va bene efficientamento va bene ma che progetti dato che noi siamo nel mondo del real estate possiamo eleggere per far vedere a tutti che attraverso il nostro lavoro attraverso il real estate si può dare l'esempio noi siamo davanti a un parco che si chiama il parco Baden-Paule a Milano abbiamo lanciato un concorso di idee interno non sapevamo neanche se si sarebbe presentato qualcuno non era mai stato fatto prima e gli abbiamo detto ai ragazzi si vince due giorni in un resort per cui non è che pensate di questa cosa ma progettate a gruppi nel parco una situazione ESG compliant che migliori la vita vostra e della comunità esterna perché non siamo solo noi c'è un mondo c'è una comunità siamo presentati in sette sette gruppi di progettisti con delle idee talmente belle che alla fine abbiamo fatto un meta gruppo e adesso con il board stiamo facendo un lavoro di piano di investimento per migliorare il parco in accordo con il comune si chiama impact investing io credo che sarà il futuro di tutte le nostre professioni e vuol dire lavorare settore pubblico settore privato e anche pubblica amministrazione che riceve in questo caso come un regalo vi dico l'ultima cosa del purpose che muove tutto questo che secondo me e poi rispondo anche alla cosa bellissima dei competitor no prima dico quella la cosa di caring che è geniale in realtà l'aveva già fatta a Patagonia perché quando Rosmar Cario ha preso il posto di Yvonne Chuinard che è il fondatore che si era fatto la domanda come posso fare business senza perdere l'anima quando lei prende il suo posto e gli dicono Rosma adesso come facciamo se tutti i nostri competitor fanno come noi la risposta è bellissima noi abbiamo l'obbligo di fare in modo che i nostri competitor non possano fare a meno di fare come noi perché noi siamo uno strumento e qui si torna a quello che ho qua io ho un colibri un giorno una persona mi ha detto il proprio obiettivo nella vita va dichiarato se no non si avvera e allora io me lo sono tatuato è un colibri che risponde alla leggenda africana che dice di un grande incendio che scopre nella foresta tutti gli animali si allontanano dall'incendio impauriti e non possiamo non dire che il nostro pianeta va a fuoco c'è un colibri che è l'uccellino più piccolo del mondo che con una goccina d'acqua nel becco va verso l'incendio il leone lo ferma e gli dice colibri dove vai? vado a spengere l'incendio sì vabbè dai colibri cosa stai facendo? io sto facendo la mia parte dice il colibri tutti si focalizzano su questa storiella sulla goccia d'acqua in realtà il vero motivo per cui questa fiaba è veramente motivante è che il colibri dall'esempio realizzando se stesso non può fare a meno di dare l'esempio realizzando se stesso e io da allora ho l'ambizione che tutte le persone che incontriamo con cui lavoriamo a cui teniamo e che le aziende vogliano diventare colibri e allora io ti chiedo questa cosa perché so che tra l'altro tu ci devi lasciare prima di tutti perché hai un impegno però come vedi la tua unit insomma quello che tu stai facendo con moltissima passione che si trasmette e che grazie anche perché insomma dopo aver parlato di questioni anche più pragmatiche come l'energia come si fa ai settori industriali perché chiaro noi qui stiamo declinando qualcosa per parlare anche di come le aziende resistono ovviamente se poi parliamo dei veri temi la sopravvivenza sul pianeta e parliamo delle persone di come approcciamo a questo problema ovvio che ci sono tante tante riflessioni anche esistenziali che si possono fare sul valore di ciascuno di noi come vedi da qui a dieci anni la tua unit il vostro lavoro come lo proietti e lo immagini bellissimo c'è Simon Sinek che è un formatore americano che ha scritto questo libro bellissimo bisogna passare da gioco finito a gioco infinito per cui il gioco finito è quello della partita il gioco infinito è amare talmente tanto lo sport che stai facendo da renderlo sempre più bello infatti io ad esempio su Save the Planet dico che Save the Planet raggiungerà il suo obiettivo quando non servirà più l'associazione sulla mia unit il problema qual è in questo momento cosa vogliamo fare c'è stata una parola bellissima che è stata utilizzata che è rischio in questo momento dobbiamo capire che se esiste una tassonomia europea degli investimenti sostenibili è perché investire in ad esempio real estate green vuol dire ridurre mitigare il rischio climatico che è sotto gli occhi di tutti abbiamo avuto una New York allagata un po' di tempo fa io su questo vi ricordo che il cambiamento climatico non vuol dire che farà un po' più caldino uniformemente sulla terra perché la terra è come se fosse una mela l'atmosfera è la rugiada sulla buccia della mela e se si inserisce dentro un ambiente chiuso tantissima energia quell'energia ti viene restituita per scoppi climatici quindi noi in questo momento stiamo cercando di far permeare l'idea che tutte le volte si fa un nuovo sviluppo immobiliare una nuova città una nuova ristrutturazione bisogna progettare non con i dati climatici di adesso ma con i dati climatici del futuro perché l'IPCC ce l'ha già dati tutti e poi torno sul tema di prima e su questo voglio lanciare una alzare la palla Eric Zechieli che poi dopo so che su questo vi veramente vi manderà in solluchero bisogna anche pensare che abbiamo perso tempo quindi forse la parola sostenibilità ci sta una taglia sotto sostenere dal latino sostenere ma non possiamo sostenere un elemento malato un corpo malato perché altrimenti muore dobbiamo rigenerare e quindi l'idea è che adesso dobbiamo passare dall'economia della sostenibilità del dnsh del non arrecare danno all'economia della rigenerazione attraverso le persone le città per il pianeta abbiamo parlato di nuove città per il futuro la mobilità del futuro sono tanti anni che si parla di smart cities in chiave però tecnologica mentre la vera novità delle città dovrà essere proprio quello che dici tu ecco città che potranno rigenerare i territori perché sarà molto interessante per questo avevamo messo lo speech di Eric prima proprio perché questo concetto della rigenerazione si lega automaticamente con il concetto poi di nuovo paradigma del mondo delle imprese laddove è vero che il profitto va mantenuto perché se no un'azienda non si reggia in piedi non è che si fa volontariato ma l'impatto può essere equivalente al profitto e generare comunque profitto ne parlavo durante l'Italia Antequic quando abbiamo invitato Cottino Socialnilp Campus loro sono di Torino e si impegnano per formare perché c'è un tema appunto che le aziende devono in qualche modo essere formate ad avere impatto non è detto che tutti abbiano come Enrica che era spronata dal suo buonsenso ma non è vero che tutti poi siano capaci di avere quella stessa sensibilità io devo dire che sono sempre contenta quando dai panel anche parlando di produttività riesco sempre a tirar fuori invece una sensibilità umana come adesso le cose che tu ci stai raccontando quindi grazie so che tu tra poco grazie a voi si io vado vi lascio qui però è stato veramente molto bello esserci grazie grazie moltissimo ma il concetto europeo adesso manca Patrizia che è l'esperta ma la financial materiality che è quella che dobbiamo è un assessment che dice quanto i rischi climatici possono impattare su noi imprese quindi non è che abbiamo siamo solo noi che impattiamo sul clima il clima impatta su noi con dei danni economici enormi se non lo risolviamo quindi la doppia materialità è proprio questo cioè e quanto noi impattiamo e quanto il clima può impattare su noi producendo degli effetti nefasti e già lo stiamo vedendo assolutamente allora io a questo punto dare la parola a Daniele Lago io ho conosciuto e ho incontrato sempre Daniele Lago lo dico perché questo ha molto a che fare sempre in occasioni in cui si parlava in Veneto di innovazione in luoghi dell'innovazione in luoghi dove si respirava beh perché ci siamo sempre incontrati in Veneto però in luoghi dove si respirava proprio il cambiamento e quindi ho agganciato subito quelle parole di Daniele l'azienda che Daniele rappresenta e che guida che è appunto Lago Design a un'azienda innovativa poi dopo sono andata un po' a guardare alcune cose voi di fatto la vocazione della sostenibilità dell'attenzione a certi valori perché ormai qui parliamo di valori non solamente di operazioni da fare perché ci viene richiesto ma di valori ce l'avete nel DNA e allora io rispetto al paradigma dell'impatto che può generare profitto del fatto che oggi non si guarda più solamente il profitto ma si cerca di essere delle aziende responsabili sia verso l'interno che verso l'esterno chiede a te un po' di raccontarci questa filosofia di Lago Design in realtà mi sembra che hanno fatto anche delle indagini dove chi è sostenibile profitta anche di più cioè se tu hai questo approccio culturale al pensare il pensiero quando lo fai positivo genera anche profitto in senso generico non solo EBITDA ma anche valore per la cultura aziendale per cui il petardo di Elena incredibile sta ragazza molto brava tra l'altro abbiamo fatto una partnership con loro proprio alla alla fiera questa qua del contract a Rimini pochi giorni fa non lo conoscevo veramente interessante noi io sono decimo di dieci figli ok faccio parte di quella roba che si chiama PMI in Italia che insomma è una roba rilevante secondo me nel panorama poi nazionale perché le Iveco sono poche le Lago sono tante in Italia e essendo così nipote del capitalismo ho sempre pensato che fare business di per sé per me non era interessante rilevante non era significativo quindi mi collego molto a quello che aveva un po detto all'inizio la signora nel senso che se tu inizi a immaginare una vita significativa un brand significativo la sostenibilità viene in automatico perché viene in automatico il rispetto il rispetto vuol dire l'R maiuscola che devi averlo per le persone per il pianeta per tante cose per cui noi per dirti 15 anni fa abbiamo pensato a questa nuova fabbrica dove abbiamo preso un architetto e non aveva mai pensato fabbrica aveva fatto solo abitazioni allora queste cose qua nascono se hai davvero quello che gli anglosassoni chiamano purpose quindi noi dobbiamo tornare soprattutto nell'Italia del rinascimento dove il significato era all'ennesima potenza la sostenibilità poi arriva senza fatica adesso abbiamo accelerato tutta una serie di fattori saremo anche abbiamo già qualche certificazione ma dopo ci sarà il bilancio di sostenibilità quelle robe lì però io credo sempre che se non c'è profondità poi nel team nel credo fai poca strada altro aspetto per le PMI che è rilevante lo racconta un po' Apple il limite della Lago è Daniele Lago se tu non riesci a implementare dei modelli di governance di treni a più motrici li chiamo io non esci tu non riesci a fare la sostenibilità se non hai treni a più motrici e quello che abbiamo cercato di fare che cerchiamo di fare in Lago ovviamente pur essendo un'azienda di 200 dipendenti quindi non enorme cerchiamo di avere questo approccio che sta dando adesso risultati veramente fantastici adesso abbiamo sei tavoli tematici siamo partiti a coinvolgere metà dei dipendenti e anche un po' di stakeholder dove ci siamo chiesti un po' come hanno fatto loro insomma cosa potremmo fare rispetto alla gente a 2030 abbiamo scelto sei punti dove noi possiamo ovviamente insomma avere avere senso nel senso che non puoi giocarti la partita dove non puoi impattare dove non puoi migliorare e da queste cose sono nate un sacco di cose interessanti abbiamo lanciato un mese e mezzo fa abbiamo una sorta di desk del psicologo quindi tutti i dipendenti Lago piuttosto che tutti i familiari possono accedere a un psicologo 24 ore su 24 siamo in pochissime aziende in Italia che lo fanno che è una cosa sconvolgente secondo me perché è un'esigenza che poi è nata dal basso e quindi stiamo facendo un sacco di robe rilevanti stiamo mettendo in piedi una piattaforma per il second end sui prodotti perché è ovvio che se tu riesci a dare seconde, terze, quarte e quinte vite a prodotti di qualità riduci l'impatto in maniera devastante e quindi insomma è davvero interessante però quello che secondo me è emerso anche da Lombardini che devi lavorare sull'approccio delle persone anche anche sul davvero sul significato del perché facciamo le cose e quando noi siamo partiti 15 anni fa ho scritto questo documento che si chiamava la grande idea non c'era la nostissima grande idea c'era un foglio a quattro ho scritto solo un approccio all'impresa siamo passati da 2 milioni a 63 nel 2022 io credo che queste cose qua non sono solo come dire delle visioni sul futuro costruiscono anche bilanci potenti dal punto di vista anche economico quindi non è non è più una cosa naif romantica da talebana dell'ambiente come raccontava lei nella adesso è scappata mi sarebbe piaciuto capire è un tema che diventa davvero una strategia che ti porta a costruire valore davvero a lungo 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 termine e i brand seri fanno quel mestiere lì i brand seri fanno quel mestiere lì quindi ogni giorno alimentano dei processi che devono seminare da qui a decenni e qua poi c'è insomma tutto il mondo invece la finanza che è un po' più birbo cioè i fondi che entrano che poi ti chiedono le semestrali lì è un po' più complicata la cosa però anche qua credo che laddove c'è qualche imprenditore che insomma tiene botta credo che sia positivo poi per la comunità perché prendi c'è anche un tema di fiducia tra noi e i lavoratori i famosi insomma il periodo del Waffa Day che siamo diventati imprenditori è molto negativo dobbiamo tornare a un humus culturale dove c'è fiducia nell'imprenditore e in chi lavora e dobbiamo avere dobbiamo avere una coesione sociale talmente forte che i sindacati devono non servire nulla nelle aziende in prospettiva come non dovrebbero servire nulla le unit che fanno quel mestiere lì perché allora significa che l'aria che si respira in una compagnia è esattamente quel che serve poi al mondo perché se per osmosi noi siamo nel mondo sicuramente non ti guarderanno bene se fai solo profitto e fai il filibustiere gestendo i dipendenti in maniera terribile quindi questa cosa qua è una cosa che abbiamo solo da guadagnarci anche in qualità della vita dico io nel senso che puoi produrre profitto per farne cose se poi capito cioè è un tema è un tema che proprio di intelligenza emotiva vorrei dire adesso innanzitutto è un periodo grazie no ma figurati grazie a te ma voglio approfondire un aspetto ci sono tantissime le nuove generazioni scelgono le aziende come la Lago le aziende dove hai la possibilità di avere fiducia nell'impresa nell'imprenditore appunto nel management hai la possibilità di fare un buon lavoro una cosa soddisfacente ma hai anche un purpose in cui ti riconosci lo dicevo questa mattina tu non c'eri ad un'intervista che stavo facendo un giovane laureato ingegnere ha scelto invece che prendessi un lavoro in un settore dell'oil and gas di farlo pagato meno in un territorio magari che lo portava via da casa però nel settore delle rinnovabili per scelta di campo quindi oggi le nuove generazioni soprattutto un'azienda come la tua che è un'azienda B2C perché le tue cose vengono chiaramente vendute le persone la conoscono la valutano la giudicano chiaramente la giudicano in base ai valori che trasmette attraverso i suoi oggetti c'è un tema ad esempio nel vostro business e si è parlato in parte anche di filiere l'abbiamo forse accennato poco fa con la dottoressa Gian Gualano tu chiaramente hai a che fare con i fornitori dei materiali ed è un'azienda che maneggia materiali perché fate mobili quindi chiaramente avete una vasta gamma di materiali come fai per riuscire è una cosa che ho chiesto a diverse aziende quando facevo questo format appunto The Green Wave in cui mi sono confrontata con almeno una ventina di aziende e gli ho chiesto come affrontate il tema della sostenibilità molte erano anche dei settori hard to debate ad esempio le cartiere è appunto un tema che ricadeva sempre su come contaminiamo la filiera con la nostra visione voi come lo fate? lo facciamo come lo fanno le aziende secondo me serie nel senso che abbiamo una sorta di academy dove prendiamo i fornitori magari quelli più piccoli che fanno fatica in termini di dimensione culturali ad accedere a certi aspetti e renderli consapevoli su tutto l'approccio che dovremmo avere nell'ecosistema perché poi le aziende sono sempre degli ecosistemi e quindi è fondamentale che accompagniamo e chi può deve Patagonia ha messo a disposizione la sua cultura per aiutare anche i competitor che è davvero rivoluzionario ma noi tutti dobbiamo farlo credetemi questa cosa qua che si fa se la fai vicino al tuo DNA e la senti genera un sacco di cose solo positive è una roba incredibile anche sul tema dei fornitori perché diventa anche insomma siamo in un'epoca dove siamo un po' tutti studenti un po' tutti prof e siamo in un'epoca dove tutti siamo fornitori e tutti siamo clienti allora questa cosa qua del considerare sempre solo un numero un fornitore piuttosto che un cliente è un errore e quindi da questi paradigmi evoluti secondo me poi nascono anche collaborazioni di fatto più profittevoli almeno da noi è successo questa roba qua quando abbiamo iniziato a fare certi pensieri le cose hanno iniziato ad andare meglio in ogni dove quindi non credo sia solo eh sì anche con Jacopacci ma è un tema che deve essere però io sono molto felice che adesso arriva l'Unione Europea con una ghigliottina e metterà in difficoltà tantissime aziende però dobbiamo farlo perché cerchiamo di capire che faremo delle vite migliori questo qua è un tema davvero molto centrale se lo faremo solo per essere compliance non funziona come vedi come vedi la lago da qui a dieci anni che cosa immagini tu che sei un visionario perché poi per guidare un'azienda creativa non lo so non lo so come la vedo noi cerchiamo di vedere le giornate come le possibilità di diventare meno rimbambiti e di e di evolvere in una in una capacità di avere un impatto positivo sulle vite delle persone attraverso il design oggi atomi plasmati in un certo modo mi piacerebbe molto il tema dell'erogare anche servizi intorno al design perché se ci pensate bene non è importante il tavolo è importante quello che succede intorno al tavolo allora diventare degli stimolatori anche in quel senso magari potrebbe essere un tema in prospettiva come tu ben sai abbiamo una comunità digitale molto che ci segue molto che insomma che noi coltiviamo molto per cui siamo molto community based diciamo quindi sta roba qua per me è sempre molto interessante coltivare l'empatia e capire dove vogliamo andare magari dando qualche piccola intuizione ma due o tre idee potenti che sono arrivate questo è il godimento orgasmico che ho a profondo no ma questa è poi l'empatia anche all'interno di un panel è arrivato dai ragazzi allora Fede HR mi dice Daniele c'è questo questo centro a Padova fantastico questi qua fanno il cibo per tutti per tutti quelli che sono meno fortunati e bla 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 e chiede al CDA di andare a fare un'esperienza prima di Natale io ero anche febricitante so se era covid o cosa vado a fare questa esperienza strucca strucca come diciamo noi in Veneto cosa succede che adesso questi qua sono diventati formatori per la lago oggi ci sono cinque ragazzi della lago che sono lì a fare un'esperienza per imparare ad esempio lì sono molto abili nel gestire i conflitti allora cosa voglio dire quando siamo tutti i clienti tutti i fornitori esattamente questi aspetti diventano poi delle leve di innovazione se vogliamo sociale in questo caso ma diventano poi un motore potente per migliorare il territorio di Padova dove noi siamo insediati per cui queste cose qua credo che nascono se tu riesci io l'ho capito tanti anni fa che era il limite della lago adesso iniziamo a vedere i frutti ma è fantastico perché poi insomma è anche tramontata secondo me forse il covid ha accelerato e tramontato l'idea dell'eroe novecentesco non c'è più basta eroe basta eroe abbiamo bisogno di tanti di tante motrici i treni di futuro saranno quella roba lì e non un treno unico e allora insomma allora io stavo cercando adesso su internet però non l'ho trovata così nell'immediato tu hai fatto un'intervista bellissima che io vi suggerisco veramente di leggere vi hai raccontato un po' la storia della famiglia dell'azienda di com'è nato credetemi leggere questa intervista che tu hai rilasciato io non mi ricordo tu hai capito di che intervista sto parlando hai fatto però insomma se andate su google e mettete Daniele Lago vi esce questa intervista è un'intervista molto una long form lui ha raccontato la storia dell'azienda e la storia dei suoi valori e queste cose che lui sta dicendo emergono tutte tra cui l'empatia il tema è che è più facile fare quello che siamo che quello che non siamo assolutamente è abbastanza semplice ci pensi certo infatti lui il resto sono complicazioni che a volte si capisce la società impongono e bla 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 si capisce grazie da questa intervista si rileva quindi vi suggerisco veramente di di leggerla perché è molto ispirazionale devo dire quindi grazie sapevo che che sarebbe stato semplice con te raggiungere il cuore di questi temi oh non applaudite mai un applauso ma non per me allora io vorrei grazie Daniele proseguire con invece un'azienda una grande azienda che appunto è Iveco che è storicamente legata ai temi di ESG capisco che dopo che lui ci ha ispirato e ci ha portato così in alto cerchiamo di rimanere in alto parlando non solamente delle concrete attività che portate avanti ma anche del vostro del vostro purpose quindi adesso utilizziamo questa parola perché ormai l'abbiamo introdotta io cerco sempre di evitare gli inglesismi quando poi siamo perché noi abbiamo comunque una lingua che dovrebbe spiegare bene però effettivamente sul purpose è difficile riuscire a tradurlo in italiano che cosa fa Iveco che appunto come ripetevo è storicamente legata e sensibile a questi temi grazie innanzitutto mi scuso per la voce ma gli effetti del cambiamento climatico si sentono proprio anche qua grazie per l'invito grazie per la domanda ovviamente noi siamo un'azienda di 35.000 dipendenti in tutto il mondo quindi sicuramente mi sono ritrovata in tanti di queste diciamo così approcci che avete detto l'entusiasmo c'è sicuramente comunque però ci dobbiamo comunque confrontare anche con dei requisiti che vengono da sia l'Europa che altre altre regioni e anche soprattutto lato investitori lato agenzie di rating e sempre di più anche lato clienti quindi anche il cliente stesso che sempre di più chiede informazioni domande KPI target su tutti questi aspetti quindi noi ci siamo strutturati siamo nati come Iveco Group quindi come società a sé stante l'anno scorso quindi abbiamo avuto questa grande se volete anche fortuna di cominciare un po' da capo rispetto magari a quelle che erano una storia una tradizione che c'era e quindi andare a vedere la nostra tradizione la nostra storia e cercare di mettere un po' in ordine per definire una strategia ISG quelle che sono le nostre attività la governance i KPI e tutto e quindi l'anno scorso quando siamo nati abbiamo definito questa strategia anche basandoci sull'ascolto di quello che che sono i nostri quelli che sono i nostri stakeholder come diceva giustamente prima Patrizia cioè andando a capire internamente e sull'esterno il nostro management ma anche i nostri clienti quelle che sono le azioni che Iveco Group doveva portare avanti e quindi abbiamo definito questa strategia che ha quattro grossi pilastri uno è la carbon footprint uno è la sicurezza quindi sicurezza sia interna sui dipendenti ma anche la sicurezza dei nostri prodotti per chi usa i nostri prodotti e per chi sta attorno ai nostri prodotti la circolarità quindi si è parlato tanto anche di circolarità e anche l'inclusione e il coinvolgimento interno ma anche sui clienti sui fornitori e sulle comunità locali queste sono le nostre priorità ad alto livello cosa abbiamo fatto abbiamo definito dei target target quantitativi target sfidanti target con al cui dietro ci sta comunque una metodologia ci stanno delle responsabilità condivise all'interno dell'organizzazione perché è fondamentale che comunque questi target siano comunque anche portati avanti affinché poi ci sia un progress un monitoraggio continuo che porti poi comunque all'ottenimento di quello che effettivamente si promette perché quello che poi il nostro purpose per cui noi abbiamo lavorato anche qui è un purpose che non abbiamo fatto e costruito con un modello top down ma con un modello bottom up andando a sentire dando la possibilità a tutte le 35.000 persone di Vecco Group di dire quello che loro volevano come vedevano un'azienda come Vecco Group e quindi dentro il nostro purpose abbiamo comunque il fatto che vogliamo contribuire per un mondo più sostenibile e questo lo facciamo attraverso tutta una serie di azioni e tutta una serie di processi l'altra cosa che voglio sottolineare è anche il fatto si è parlato tanto anche oggi del coinvolgimento il coinvolgimento è fondamentale per un'azienda come la nostra i primi passi sono stati ovviamente i KPI il monitoraggio i target inserire i target anche nell'executive compensation rispondere alle agenzie di rating ma quello che adesso è il futuro e per cui da un mese a questa parte ho una persona solo e solamente dedicata nel mio team all'engagement interno quindi andare a capire quelle che sono le esigenze delle persone e essendo un'azienda di 35.000 persone in tutto il mondo non abbiamo un modello unico che può essere applicato a tutti gli impiegati a tutti gli operai no io sono stata personalmente in cinque establishmenti alcuni in Francia alcuni in Italia per parlare con le persone per capire secondo voi cosa vuol dire fare sostenibilità qual è il contributo che voi volete dare per fare sostenibilità e questo perché perché il nostro amministratorio delegato che praticamente ha fatto l'altro ieri uno speech a tutti quelli che sono i referenti della sostenibilità ha puntato su due cose la coerenza dell'approccio e la seconda cosa le piccole cose quindi la sostenibilità nasce anche dalle piccole cose sono le piccole cose per cui poi le persone si sentono partecipi si sentono partecipi anche di questo grosso cambiamento che è fondamentale e poi la coerenza la coerenza rispetto ai messaggi che noi diamo all'esterno rispetto poi alle azioni concrete per evitare greenwashing per evitare perché noi il nostro approccio ed è quello che abbiamo fatto fin dall'inizio è comunque di un approccio molto scientifico al tema della sostenibilità perché è quello che dobbiamo garantire ai nostri investitori al Consiglio d'amministrazione a tutti i nostri stakeholder perché non si può prescindere da quello quando sentiamo diciamo così nei vari notizia non notizia alla televisione quando ci sono le varie pubblicità che dicono questo prodotto è sostenibile sì ma che cosa vuol dire cioè bisogna anche e secondo me anche questo è un grosso cambiamento noi siamo una B2B e non una B2C però sul consumatore il consumatore deve essere anche in grado di capire perché quel prodotto è sostenibile o no se quella pubblicità che sta sentendo è vera o non è vera e questo si fa come? Attraverso l'educazione e qui ritorna ancora quello la formazione anche l'esempio permettetemi di dire questa cosa anche dare il buon esempio nei confronti anche una grande azienda come la nostra nella sua rigorosità dell'approccio certo grazie grazie moltissimo io vorrei con te concludere e un po' rubarti una suggestione finale di commento di Cerniera su questo passaggio dall'era della sostenibilità come ci diceva appunto Elena Stoppioni di Lombardini 22 all'era della rigenerazione cosa te ne pare di questo che poi così lasciamo proprio la parola ad Eric Ezechieli perché ci parlerà probabilmente di questo e che quando iniziamo a parlare di una cosa siamo già in ritardo quindi ovviamente è vero che non possiamo più parlare di sostenibilità perché siamo già in ritardo su questo tema questo è assolutamente vero quindi ben venga la rigenerazione ben venga l'intelligenza emotiva perché esistono svariate forme di intelligenza non solo una io lavoro in un'azienda che si occupa di tutelare le idee quindi l'intelligenza l'espressione l'innovazione ma non c'è solo quello che è molto tecnico ci sono varie forme di intelligenza quindi le aziende devono nella loro approccio di accoglienza della diversity amare le differenze amare le varie forme di intelligenza e accoglierle perché solo accogliendo le differenze eviteremo quello che in questi giorni è sulle cronache che dobbiamo assolutamente evitare anche quello è insostenibile siamo d'accordo quindi sostenibilità in senso veramente molto più ampio molto più olistico rigenerazione è un bel termine possiamo fare rinjuvenimento anche l'ingiovenimento perché sulla longevità stanno facendo tantissimo ad esempio ho appena compiuto 60 anni quindi inizio a sentire il tiktok c'è allora effettivamente ci sono tanti temi sicuramente il fatto che le imprese li inizino ad accogliere siano portatori io non sono tanto d'accordo con te perché la finanza è vero che fino a qualche anno fa era quella che ci chiedeva solo le trimestrali ma in questi anni la finanza è stata anche portatrice di questi temi in alcune occasioni perché sempre di più gli investitori guardano l'impatto dei propri investimenti e non è un caso che molti investimenti vengono fatti in start up che sono volto a migliorare la vita su questo pianeta quindi questo vuol dire che c'è una volontà generale quindi non lasciamoci come dire offuscare da quelle che sono le brutte notizie cerchiamo di tenere lo sguardo alto e noi imprenditori abbiamo questo obbligo di guardare oltre non fermarci non avere paura e anche dire rischiare e accogliere quelli che sono i cambiamenti non di oggi la sostenibilità è un concetto superato dobbiamo andare oltre e grazie grazie diventando ah no ultima cosa da lunedì per quelli che sono i nostri collaboratori tutti un tatuaggio di un colibri sul posto altrimenti non è entrato in azienda sarà il nuovo badge grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti